Ah un'altra bella salita, pensate, dal numero 48 al numero 34 un 45 giri che magari i nostri amici di Sjockey già hanno piazzato nel loro programma della discoteca da diverse settimane però adesso finalmente è stato pubblicato anche in Italia, poi è stato lanciato proprio dal nostro appuntamento con Popcorn sono state ospiti in premiatissima e non solo ma molto presto verranno in Italia per una grande tournée insieme mi pare a Gazzivo comunque queste sono indiscrezioni ufficiose e non ufficiali sto parlando della numero 34 di questa settimana cioè le Flirts con Pesce Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti